Giuseppe Dauge, un bilancio della tua squadra dopo questa giornata, dopo la sosta natalizia? Sì, diciamo che dopo le feste non è mai semplice, mai facile. Infatti il torneo è stato realizzato per cominciare a avere di nuovo il ritmo gara e mancavano la Valcheraia e i Cavallini, però tranquillamente abbiamo trovato il ritmo pian piano sia la prima gara che la seconda un po' meno. Però abbiamo provato le nostre situazioni di gioco, i nostri schemi, quindi va bene così. Andiamo in settimana, lavoriamo e poi pensiamo alla prossima giornata che è in casa contro Petsch. Ok, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Viva il lupo!